belle gioie buona sera eccoci qui nuovo video carrellata veloce ci sono arrivati tantissimi articoli cercherò di essere velocissima anche questa volta perché veramente sono tanti abbiamo fatto due scarichi attaccati ragazzi oggi un ulteriore scarico per gli assortimenti perché gli articoli nuovi che ci sono arrivati che avete trovato postati sulle pagine rgn lovers di instagram e facebook e rgn punto piano di facebook ragazzi vi sono piaciute talmente tanto che non ci ho avuto nemmeno il tempo di postare il video e quindi eccomi qui bella pronta e carica per farvi vedere tutti quanti gli articoli allora cominciamo subito subito con un articolo che ci è rientrato di nuovo disponibile come al solito quando mi rientrano di nuovo disponibili gli articoli ci rientrano anche e in altre fantasie in altre colorazioni guardate quanto è bello il top sciallato quello intacte quello morbidissimo che mi piace tanto che arriva a metà fianco sciallato nella parte davanti è arrivato nella versione stampata floreale a fiori grandi è rientrato di nuovo disponibile il micro fiorellini quello che mi piace tantissimo l'ho buttato perché mi sono presa rientrato di nuovo la fantasia geometrica con il verde e il nero il marroncino di nuovo disponibili anche nella versione a rombi e col celeste e col verde militare sarò velocissima questo modellino qui è taglia unica ottimo nella vestibilità l'abbiamo già visto probabilmente lo vedrete anche indossato nelle foto del look of the day perché io mi sono presa la versione con i micro fiorellini che è quella che mi è caduta per terra ragazze non ve la posso far rivedere aspetta vediamo eccolo qua scusate mi era appena scivolato allora mi sono presa questa versione qui e probabilmente domani vi ci farò una bella foto perché mi piace tanto 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 leggero pur essendo sintetico un tessuto freschissimo perché è tactile e bello comodo elegante effetto leggermente lucidino che possiamo mettere benissimo anche come sotto giacca e ovviamente anche su uno shorts che magari possa essere una cosa del genere guardate che delizia shorts che ci è arrivato nuovo nuovo disponibile e nella versione nera e nella versione bianca wow sembra bruzzolatissima questo bianco ecco mettiamolo con nero il tessuto è in crepe come potete ben vedere leggermente bruzzolatino l'effetto del tessuto ha l'elastico in vita taglia unica la cintina che ovviamente possiamo andare a sostituire voi sapete chi sono amante delle cinte che quindi le sostituisco quando sono così infine ci vado a mettere quelle belle elasticizzate grandi che vi piacciono tantissimo è un modellino di quelli taglia unica che arriva a metà coscia sembra quasi una cornellina pur essendo un pantaloncino perché potete ben vedere la divisione delle gambe ecco diciamola così taglia unica comodo morbido metà coscia la super abbondantemente quindi possiamo metterlo avendo l'elastico vita è un pochino più alto di vita è un pochino più basso per acquistare un pochino più di lunghezza e mi piace tanto tanto vediamo la vestibilità come vediamo sciogliamo l'accettino ovviamente il prezzo ragazze 9 euro e 99 per una taglia unica che ha una vestibilità eccezionale questo secondo me fino a una 50 tranquillamente massissi anche qualcosina in più perché poi rimanendo morbido anche nella parte di sotto calza bene 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 allora visto lo shorts che poi tanto shorts non era visto il topino andiamo a vedere un articolo nuovo quella eccolo qui fantastici vestito lungo ovviamente come vedete la fantasia è pua ve lo faccio vedere un pochino più da lontano arriva sopra la caviglia ha la spalla larga incrociata spalla larga che si può regolare perché ha dei laccettini dopo lo vediamo bene nel dettaglio disponibile nella versione blu con il bianco nella versione deliziosissima che è un salmone un rosa salmonato si dai con il bianco e nella versione ovviamente tramontabile e immancabile nera e bianca allora per quanto riguarda questo modellino ragazze come vi dicevo lo scollo è a v rimane incrociato sotto al seno ha una bella vestibilità anche perché al seno un pochino più grande essendo incrociato ha la spalla che rimane larga molto larga e può essere regolata da questi laccettini che ci sono qui ci sono dei tiranti con cui potete regolare quindi stringere un pochino di più l'accetto e anche ovviamente la coppa andando a stringerlo ha lo scollo avanti e dietro ha dei fili elastici che vanno a chiudere la parte sotto al seno quindi rimane morbido nella parte del seno leggermente più aderentino sotto ovviamente gli elastici non vanno a stringere chissà quanto ma a modellare un pochino di più il vestito per quanto riguarda il tessuto è 100% cotone ragazze quello leggero leggero fresco che ci piace tantissimo taglia unica come vi stavo dicendo disponibile nelle tre colorazioni a 14 euro e 99 questo è quello velocissimo secondo me da mettere anche con la ciabattina perché come vedete bene arriva praticamente leggermente sopra la caviglia quindi anche con una ciabattina bassa bassa questo è l'ideale fresco lungo morbido ci diveste benissimo mi piace tanto per quanto riguarda invece i vestiti che ci sono tornati di nuovo disponibili continuiamo a lavorare benissimo il modellino cintine tasche taglia unica con lo scollo giro e la mezza manicuccia quello che abbiamo disponibile di nuovo anche nella versione verde oltre che nella versione nera e ragazze guardate che bellezza ci è arrivato lo stesso identico modellino nella versione maculata tre fantasie di maculato 14 euro e 99 la versione maculata sempre in taglia unica sempre nella stessa vestibilità quindi ottima nel tessuto morbido 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 forse questo no non è legge scusate forse questo leggermente più finetto rispetto a che il tessuto della tinta unita morbido 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 mi piace mi piace in tutte e tre le varianti non saprei quale scegliere forse punterei su quella centrale che c'è tanto nero sì bella panterona vabbè ragazze poi la scelta sarà ardua perché sono una più bella dell'altra e poi maculato ricordate quello d'estate va sempre come va sempre il rigato bacchettatino fino 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 che ci abbiamo disponibile per quanto riguarda il pantalone nuovo in un tessuto nuovo che ha un semi elasticizzato fino morbido morbido ovviamente la linea leggermente più morbidina disponibile nella versione nera nella versione verde quindi andiamo poi a trovare le richine che sono contrasto tono su tono nella versione celestina che è delizioso ragazze già abbiamo venduto riassortito questo celestina è veramente bello bello nella versione fragola guardate che spettacolo io mi sono innamorata del fragola quest'anno come colore e nella versione bello lina che non manca mai perché d'estate va sempre nel sabbia allora come vi dicevo taglia unica guarda in fragola perché adoro ragazze veramente bellissimo taglia unica con la pulisse il che vuol dire che lo possiamo regolare un pochino più alto un pochino più basso morbido morbido per quanto riguarda il tessuto guardate è elasticizzatissimo veramente comodo rimane leggermente più sagomadino sulla gamba e nella parte di sotto volendo ci si può fare come al solito il risbottino per poterlo tirare un pochino più su e se no invece se lo volete lungo ovviamente vedete il tessuto è sempre stampato anche nella parte esterna fino alla fine rimane a pantalone lungo è bellissimo indossato taglia unica comodo nella vestibilità arriviamo fino a una 48 tranquillamente e l'ho visto indossato ragazze stupendo 14 euro e 99 per questo pantalone che secondo me questa estate ci aiuterà tantissimo a superare queste giornate calde calde volendo poi su questo pantalone magari cambiando il colore prendendo la versione nera farei un completino così ragazze allora io adoro il giallo ve lo faccio vedere mi è arrivata questa camicettina smanicata che è bellissima l'ho provata me la sono già mandata in ordine in giallo perché io adoro e secondo me sta bene su tutto guardate e risalta la bronzatura vabbè chi usa la rettesi del giallo che mi piace da impazzire come avete capito vi faccio vedere la camicettina che è in tessuto crepe taglia unica morbida è un modellino che scende abbastanza morbidino ha il lacettino predisposta per essere legata in vita non è che l'abbiamo volutamente messa così ma nasce proprio così perché in realtà delle puntine disponibili oltre che nella versione gialla nella versione verde militare nella versione bianca ragazze questa una più bella dell'altra nella versione nera queste secondo me sono carinissime da mettere anche sopra un vestitino per andare a chiudere questo è il vestitino che ci è tornato di nuovo disponibile quello con il busto in maglina e la parte di sotto stampata guardate che carina questa può essere lasciata aperta lasciata chiusa ma anche messa qui sopra alla tutina di twins che porto io ragazzi ve lo faccio vedere come sta indossata per chi merita veramente tantissimo la camicettina viene 10 euro e 99 è taglia unica come vi dicevo io le adoro le adoro perché anche sopra un topino un pochino più a trentino sopra un vestito un pochino più a trentino queste ci aiutano tanto perché cambuffano e rimangono morbide come potete ben vedere il giro manica rimane anche abbastanza ampio quindi ottima nella vestibilità anche perché al seno un pochino più grande ragazze il mio finisce qui quindi ci stiamo come vedete bene nella parte davanti ci sono le punte proprio per essere legata un po più bassa oppure un pochino più altina ragazze poi a seconda di come la abbinate con il sotto ovviamente perché su questa tutina qui non potrebbe essere troppo lunga eccola qua vedete che carina e poi comunque i bottoncini tono su tono che riusciamo a mettere su tutto bella 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 10 euro e 99 questa me la prendo e devo dire che è un ottimo acquisto anche per andare a chiudere magari un vestitino che ha una bretellina un pochino più fina o comunque da abbinare perché no sopra a uno shorts ragazze shorts che c'è arrivato sempre tessuto crepe sempre stampato taglia unica questo qui all'effetto caramella cioè disponibile nella versione soltanto maculatina e questa è una delizia ragazze sciogliamo la cintina che che ovviamente possiamo andare a sostituire e utilizzare anche perché no per i capelli fare tipo cerchietto mi piacciono tanto queste cosettine così questo qui per quanto riguarda la vestibilità arriva fino a una 46 non credo che arrivi fino a una 48 rimane un po più precisino leggermente più cortino questo è un amore ha anche le taschette ragazze questo modellino qui mi piace assai allora come gli stavo dicendo c'è rientrato come avete visto c'è rientrato anche il vestito quello con il busto in maglina quello che stiamo lavorando benissimo che agli spacchettini laterali fino a ginocchio all'incirca sia a destra che a sinistra taglia unica c'è arrivata la versione disponibile bianco nero rigato righetta fina fina quindi le righe verticali vi ricordo che slanciano e non allargano quindi non abbiamo scuse la versione a pua che è sempre attuale questa versione a fantasia che sembra vagamente maculata ma in realtà se la guardiamo bene si è maculato bianco e nero con dei fiorellini a macchietta mi piace e poi di nuovo disponibile la fantasia con le foglie color sabbia e disponibile di nuovo la fantasia maculata perché ragazzi il maculato quest'anno va tantissimo taglia unica per questo vestitino 15 euro e 99 una per l'altra tutte le fantasie ma andiamo a vedere una mio ente che poi è un articolo che lavoriamo benissimo tutte le estati ovviamente ci arriva sempre nella colorazione moda del momento questa volta abbiamo disponibile nella versione nera e nella versione avion è la scamiciata quella che arriva sopra il ginocchio che possiamo mettere tranquillamente e a vestitino ma volendo togliere la cinta oppure andarla a stringere tanto e sblosare possiamo portare bene bene anche su un leggins scamiciatina in cotone finissimo quello leggerissimo col collo a alla coreana i bottoncini che si aprono fino a sotto al seno quindi ottima anche questa per allattare la vestibilità ragazze quella comoda comoda comodo aspetta che c'è la cintina guardate ottimo nella vestibilità il ginomanica bello morbido e ampio questo va benissimo per tutte mi piace tanto anche la versione in avion ovviamente abbiamo la cintina in dotazione cintina che poi volendo possiamo sostituire o possiamo anche omettere perché i passanti sono tono su tono per quanto riguarda il prezzo 13 euro e 99 ragazze cosa dirvi niente vado avanti e vi faccio vedere tutti quanti gli altri articoli ragazze vado avanti vi faccio vedere una new entry proprio fresca fresca di giornata questo è un vestitino molto molto carino spalla fina incrociato in georgette quindi il tessuto della parte esterna è quello sintetico che rimane fresco fresco stampato e delizioso ovviamente nella parte interna troviamo per tutto quanto il il vestito la maniglina quindi fibra naturale a pelle disponibile nella versione salmone con i fiorellini viola giallo chiaro e le fogliolini ovviamente verdi disponibile guardate che bello nella base nera con questi fiori viola e giallo chiaro e verdi fiori sono sempre dello stesso colore per tutte e due le sfumatori mentre invece cambia nella versione con la base panna abbiamo i fiorellini sul rosso e sul celeste con le foglie verdi questo è quello proprio fresco fresco mi piace tanto poi effetto campagnola che mi piace e poi d'estate ci sta insomma questo è carino da mettere con una cintina con un sandaletto perché no con una scarpetta che sia magari una zeppa ma anche con uno stivaletto questo lo vedo benissimo taglia unica la lunghezza arriva al ginocchio quindi mi piace tantissimo anche la lunghezza la scollatura è quella giusta la coppa c'ha un'ottima vestibilità pur essendo a bretellina ovviamente nella parte di dietro c'è un tirante inelastico quindi rimane anche ottimo la vestibilità le spalline non si regolano come se fossero un reggiseno ma secondo me se proprio dobbiamo andarla ad accorciare basta mettere un puntino e gioco è fatto ragazze poi altro articolo nuovo che vi faccio vedere in realtà non mi ricordo se già ve l'ho fatto vedere nell'altro video non credo nel video precedente c'è arrivato ragazze lo splendore ci è piaciuta tantissimo la versione della maglia mezza manica con lo scollo av quella costina vediamo se si vede su qualche colore si su questo colore così vicino mi riesco a far vedere anche le costine ovviamente c'è arrivata anche la versione a canottiera ottima nella vestibilità taglia unica 100 per cento cotone le costine rimangono sagomate ma non fanno aderire la maglia cosa dirvi di più niente che è stupenda sta maglietta che mi piace tantissimo sagomata ottima sia come sottogiacca sia come magliettina a sé da sola disponibile nella versione avian nella versione verde salvia nella versione grigia nella versione corallo ovviamente nella versione bianca e nell'intramontabile nero bella 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 la lunghezza bella la vestibilità anche perché essere un pochino più grande comunque la sfollatura non è troppo profonda quindi si può fare sicuramente e poi un altro articolo nuovo che c'è arrivato anzi che c'è rientrato è il pinocchietto quello di jeans quello elasticizzato quello che arriva sotto al ginocchio e rimane sagomatino vita medio alta disponibile dalla 36 fino alla 54 ragazze sempre a 16 euro e 99 questo modellino qui bello comodo leggero leggermente spumatino zip bottone risbottino che ovviamente si può togliere per acquistare un pochino più di lunghezza altra news che vi faccio vedere sempre rimanendo sulla fantasia fiorata quella coi micro fiorellini viola e gialli e ovviamente nella fantasia del panna con i fiorellini bordeaux e celesti eccolo qua nella versione coi fiori viola e gialli sul nero è la tutina quella con la bretellina ragazze bretellina che si regola come se fosse un reggiseno quindi ottima nella vestibilità e anche per acquistare un pochino più di lunghezza è la tutina quella shorts come potete ben vedere ragazze deliziosa io ho provato un modellino che c'era arrivato nella versione maculata ma è terminato questa è la versione nuova che ci è arrivata tessuto per quanto riguarda la tutina è il rasetto quello fino fino leggermente lucidino delizia ragazze delizia vi dico solo questa cosa e poi delizia ma che dico delizia più di una delizia no non mi soviene nulla più di una delizia deliziosissimo forse ecco io adoro il giacchettino di jeans giacchettino di jeans che ci è arrivato disponibile dalla xl dall'ex s scusate fino alla xl quindi anzi fino all'x xl niente non c'è spagiolo oggi con le taglie scusatemi allora dalla xs fino alla doppia xl giacchettino di jeans quello elasticizzatissimo quello comodissimo che arriva praticamente ad appoggiarsi sopra al fianco ottimo nella vestibilità ragazze guardate che bello ha la manica che rimane bella aderentina comodissimo ovviamente perché un semi elasticizzato poi basta prendere la taglia giusta mi piace da impazzire versione estiva quindi rimane un pochino più aderente ovviamente non ci andiamo a mettere poi sotto le felpe o cosa se no bisogna aumentare di una taglia semplicemente 24 euro e 99 ottimo nella vestibilità ragazze per concludere la serie dei fiorellini sempre quelli bordeaux e bordeaux e giallo e rosso e celeste c'è arrivata anche il toppino con le balze ragazze uno più bello dell'altro i colori sono sempre gli stessi quindi parliamo della base come per il vestitino e non come la tutina che è di raso il tessuto del toppino è in giorgetta morbido rimane largo per quanto riguarda la lunghezza ragazze questa si appoggia al punto vita questo deve essere una delizia anche su uno shorts o su una cosettina un pochino più aderentina sotto secondo me si si viene veramente carino questo ovviamente sul modellino che va ad allargarsi un pochino ci vedrei benissimo o un pantalone lungo anche largo magari ovviamente titta unita per quanto riguarda questo modello oppure un pantalone molto molto stretto invece vi faccio vedere che continuiamo la serie dello chambri ragazze perché è il tessuto fresco fresco la fa da padrone quest'estate e allora ecco qui una gonna lunga con una lunga con un effetto a balze quindi si va ad allargare ogni balza che scende e all'elastico in vita ottima nella vestibilità vi ricordo sempre che lo chambri è un cotone fino tinto jeans quindi comunque leggera e comodissima non è elasticizzato come tessuto ma per quanto riguarda questi modellini qui tendono tutti quanti ad essere un pochino più ampi e quindi ad avere un pochino più di gioco per quanto riguarda questa gonna ha una buona vestibilità io direi che tranquillamente fino alla 48 ci si sta comodissime gonna lunga che arriva alla caviglia e anche questo modellino qui ovviamente può essere abbinato e con una tinta unita che possa essere magari una camicettina col nodo quelle da 10 e 99 ma anche con una topino che rimanga un pochino più corto perché la parte di sopra tende ad essere leggermente più sagoma di una di questa gonna gonna che abbiamo disponibile in taglia unica a 19 euro e 99 altra news ragazzi e questo modello l'abbiamo adorato tutte tant'è che io me lo sono preso anche in questa versione qui ci ho fatto pure una foto la trovate postata sulle nostre pagi come look of the day è bellissimo indosso taglia unica vestitino incrociato che oggi mi è arrivato anche in questa versione qui guardate che splendore questa fantasia effetto leggermente maculato colpo d'occhio e poi tantissimi colori il rosso il celeste il giallo il verde acido mi piace tantissimo fresco estivo ma ovviamente adoro anche questo modello qui che quello che mi sono presa che mi ricorda vagamente un quadro di quelle astratte ragazze mi piace tantissimo vestitino con lo scollo av come potete ben vedere vestitino che ha il laccetto per quanto riguarda il tessuto è tactile quindi è quello freschissimo leggero leggero dietro nella parte posteriore va a chiudersi leggermente effetto avvocatore quindi se mettete il registrino a pretellina si vede ma basta mettere quello che passa dietro al collo e non si vede nulla ragazze per quanto riguarda la lunghezza di questo vestitino è deliziosa rimane leggermente più cortino nella parte centrale quindi leggermente sopra le ginocchia per quanto riguarda la parte centrale destra e sinistra ha delle punte che vanno a coprire le ginocchia mi piace tantissimo taglia unica ha una piccolissima ripresa nella parte della cinturina eccola qui ragazze non so se si si vede così dai così lo vediamo bene bene è bellissimo lo scollo è quello giusto il tessuto è quello giusto l'effetto indossato è fantastico perché rimane morbido poi nella parte subito sotto al seno senza fare troppo l'effetto prima e mi piace da impazzire 14 euro e 99 per te entrambe le lezioni ok altra news che ci è arrivata che vi ha fatto impazzire di gioia perché è veramente bellina è una maglia in cotone quello ultraleggero ragazze proprio comodo 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 fino 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 maglia un pochino più lunghetta stampata con una stampa e una fila di paillettes che gli danno una lucentezza allucinante maglia modello oversize deliziosa con giropollo disponibile nella versione nera nella versione bianca nella versione verde militare guardate che bellezza nella versione jeans adoro ragazze bellissima nella versione corallo una più bella dell'altra queste maglie una più bella dell'altra i colori degli altri i colori e dirvi che è un modello oversize che possiamo mettere tranquillamente sopra le leggings lo scollo è abbastanza ampio da poter scendere leggermente non tantissimo ma leggermente della spalla riusciamo a farla uscire viene 13 euro e 99 mi piace semplice e sono quelle cose semplici che comunque ragazze riusciamo a mettere benissimo e sono fresche se ci diversano tanto tanto altra news che mi è arrivata ragazze guardate che bellino vestitino a balze con l'effetto del collo av come potete ben vedere colletto alla coreana quindi ottimo nella vestibilità a una mezza manichina che arriva proprio sopra nella parte dell'avambraccio manichina che finisce a campanella con questo disegno che ragazze per me di una delizia allucinante bianco e nero con l'effetto ovviamente un pochino più scuretto nella parte di sotto finisce a balze come potete ben vedere non so se si vede si si vede forse da lontano si vede ancora meglio eccolo qui qui l'ultima balza arriva sopra il ginocchio taglia unica secondo me questo è ottimo da mettere anche con una cintura mi piace tanto tanto questo vestitino qui viene 19 euro e 99 e poi continuiamo con la sagra dello chambri ragazze cosa farvi vedere la tutina che porto io indosso tutina perché questa è una tutina come potete ben vedere tutina fascia taglia unica ottima nella vestibilità rimane molto molto morbida e ha la culisse nella parte centrale l'elastico per quanto riguarda la parte superiore quindi si regge benissimo si regge benissimo scivolata che figura allora si regge benissimo ottima nella vestibilità che cosa dirvi che ha le tasche che è molto lunga per quanto riguarda la parte di sotto del pantalone ma come potete ben vedere rimane abbastanza strettino quindi comunque non scende ovviamente può essere risvoltata e tirata un pochino più su e quindi farla anche leggermente più cortina la vestibilità è abbastanza buona non credo che superi una 46 di taglia per quanto riguarda la vestibilità perché comunque non ha aperture nei laterali né zip né bottoncini quindi dobbiamo far passare tutto quanto da questo elastico a tirare su ovviamente nella parte di sotto qui lo vedete con cioè sia un elastichino che una culisse però ragazze è fantastica cioè è comoda 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 bella morbida leggera leggerissima più che leggera pratica 19 euro e 99 la tutina questa qui altro articolo che ci è arrivato di nuovo disponibile è la scamiciatina quella con i bottoncini quella col colletta la coreana giro manica ottima nella vestibilità questa qui ragazze tutte pazze per questa scamiciata che c'è rientrata di nuovo disponibile e vista la tuta vista la scamiciata visto tutto quello che abbiamo visto in ciappri ragazze non poteva mancare un bel vestito a fascia vestito a fascia che ha un'ottima vestibilità che ha dei fili elastici per quanto riguarda la parte del seno quindi guardate bene veramente ottima la vestibilità per quanto riguarda la parte di sotto del vestitino va sempre a balze ad allargarsi questo da mettere a solo velocissimo con una ciabattina con una scarpa col tacco ma anche con una zeppa da mettere con una cintura da mettere come volete questo qui secondo me quest'estate lo sfrutterete tantissimo 19 euro e 99 ovviamente taglia unica perché vestito si fa presto a entrarci ottimo nella vestibilità e e basta altro articolo che ci è arrivato nuovo ragazze adoro mi piace di impazzire pensando pure al caldo che sta facendo questi giorni ovviamente il tessuto più fresco secondo me per quanto riguarda i vestitini è o il cotone o lo chambri o il tactile e ecco qui un'altra fantasia per quanto riguarda i vestiti lunghi in tactile vestito lungo che è bellissimo indosso ragazze ve lo devo far vedere perché è veramente bellissimo allora vestito lungo con l'effetto scolla v spalla larga quindi ottimo nella vestibilità del seno ragazza guardate che ampia questa coppa coppa che possiamo regolare grazie al tirante che c'è nella parte superiore e quindi possiamo andare a chiudere quindi sta bene a tutti a chi ha il seno un po più piccolo come me a chi ha il seno un po più grande come magari come te che ne so non lo so fili elastici che vanno a stringere un pochino e a modellare un po di più il vestito nella parte centrale la parte di sotto rimane morbida lunga fresca leggera guardate che guardate che spettacolo questa fantasia allora abbiamo immaculato abbiamo il sabbia e il verde acqua il giallo gra ci sono un po tutti i colori ragazze bellissimo 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 facilissimo da abbinare questo con la base blu altrettanto facile da abbinare la versione con il rosso e il blu mi piace tanto tanto sono freschi sono veloci sono leggeri costano pochissimo 14 euro e 99 per quanto riguarda la lunghezza anche questo motellino qui arriva alla caviglia quindi ottimo da mettere con una scarpa cortacco ma tranquillamente lo possiamo abbinare anche una ciabattina allora ragazze a questo punto vi ho fatto vedere un po tutti gli articoli che abbiamo scaricato questi giorni mi raccomando occhi aperti se non volete perdere tutte le novità anche sulle nostre pagine rgn lovers di instagram e facebook dove attraverso direct e messenger avete una linea diretta con me dove è possibile effettuare lo shopping online e quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione attraverso la pagina rgn punto fiano di facebook che quella ufficiale del negozio dove potete trovare orari contanti aperture tutto ciò che concerne il nostro punto vendita ovviamente le foto con tutti gli articoli nuovi qui sul video oltre alla descrizione di tutti gli articoli nuovi trovate anche tutti quanti riassortimenti quindi mi raccomando ricordate di iscrivervi al canale se volete ancora più informazioni se non volete perdere tutti gli articoli che abbiamo disponibili all'interno del punto vendita a questo punto che cosa dirvi niente che ci vediamo al prossimo video ragazze da manuela è tutto vi ringrazio per l'attenzione ciao ciao